Eccoci col match winner di oggi, Lorenzo Costaiola che ha fatto esplodere lo Spinetti con un grandissimo goal. Come l'hai pensato, come ti è uscito questo bellissimo goal oggi? Diciamo che sono contento per oggi perché soprattutto nella vittoria della squadra abbiamo veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo oggi. L'albitro anche oggi purtroppo la terna arbitrale non ci ha aiutato, anzi non è stata all'altezza di questa categoria penso. Nonostante tutto ci siamo messi sotto, abbiamo fatto una gara ottima dal primo all'ultimo, anche chi è subentrato, è entrato alla grande, ci ha dato una grossa mano soprattutto dopo l'espulsione del capitano. Sono contento per il goal, anche io ho gettato il cuore oltre l'ostacolo, mi sono preso delle responsabilità. Abbiamo visto che tu quasi con i crampi corrivi ancora a aiutare i tuoi compagni a difendere il risultato, quindi anche una prova di voler dare il massimo fino all'ultimo per questa maglia. Sì, di far capire che teniamo la nostra isola, il nostro prociracalcio e vogliamo far bene, vogliamo fare un ottimo campionato, ce lo meritiamo, siamo un'ottima squadra che dobbiamo lavorare sempre al massimo, non possiamo permetterci distrazioni. Sono contento per oggi perché per come si era messa non era facile, ma ce l'abbiamo fatta.